questo salvagente si gonfia tutto e ci permette di restare a galla hanno un'altra sicurezza che della luce questo si chiude così guarda questo si infila qua dentro e si chiude grazie a tutti ancora non è facile però io ti piace io ho capito tutte cose adesso fatto oggi sono contento veramente io mi piace queste cose che abbiamo fatto qui mi devo dire di ringrazio gli organizzatori di questo corso di questo corso veramente sono felice oggi finalmente abbiamo provato l'ebbrezza della navigazione a vela abbiamo trovato le condizioni meteo ottimali maestralino circa 12 13 nodi che ci ha consentito anche di avere velocità fino agli ottonodi oggi siamo su icnusa la barca del nostro amico mattias che si è reso sempre disponibile a darci una mano in tutte le necessità la cosa più bella di questa giornata è stata la soddisfazione dei ragazzi che finalmente lo visti molto felici e siamo riusciti a farle capire che cosa affronteranno affronteranno durante questo percorso con noi grazie a tutti buon tempo! buon tempo! Ciao!